A poche manciate di minuti dall'inizio dello spettacolo Mabouche d'Alebra che chiuderà la giornata contro la violenza sulle donne, in sintesi, perché questo spettacolo? Allora, dunque, Mabouche d'Alebra è un progetto coreografico e un cortodantato che ha l'onore di chiudere una settimana intensa legata alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Io credo che sia significativa questa scelta di voler far chiudere alla danza, all'arte della danza, perché questo spettacolo è stato pensato e creato insieme ad alcuni allievi della mia scuola che hanno un'età compresa tra i 10 e i 20 anni. E se è vero che è importante risvegliare le coscienze degli adulti, è ancora più importante riuscire a sensibilizzare gli adulti del domani. Io credo che farlo con la danza, farlo con l'arte sia stupendo, perché l'arte riunisce, l'arte crea domande e l'arte genera un rapporto intimo e profondo tra ballerino e spettatore. E se poi a danzare sono le nuove generazioni, allora credo che il messaggio sia importante e sia un messaggio positivo, perché alla fine, come si dice nel mio cortodanzato, in chiusura del mio cortodanzato, nulla più dei colori può portare via il blu.